Musica In sardiesco ladar vestista usa allarme, prosa minimada, si spessata a desosprezio e desorbiazzo il via mare a posti schisa a sprenotazione sul benias a mancare. A saterale in sarioporto del castello è una registrausa record dei passeggerosi in su mese dei Tribolas, prosa prima volta su un'istau spurdese schentamizza, che numero ormenzo spuru del su mese di agosto del sudua mizze e decenove. Dai prima di Ede Maio a su 31 dei Tribolas in siscalu di su masu bacola un milione se schentamizza persone, e proso un mese in peso cominzao, si indeprivì di bello un milione, un atto in un record, prosa aeroporto, che da Iannario è screschio, belle e desubattor di chi prochento in prur rispetto a sormattessi meser desudua mizze e bintiduoso. Sa dimanda a Tando Este, chi è a resone? Sa assessore di su turismo Giannichessa, che confirma sul numero di un'istagione record, o palo manca del vedere albergo schiva verda di un'istagione modesta? Sa risposta è schiana a resone amboso. Chi ha di separato a Sardegna è su buoni stranzo. La gradite a viazzare in aereo, a noleggiare una macchina, però una vacanza a massimo di una chida, separando mescamente su bed and breakfast, che in Sardegna sono prude vintimizza, o affittando un addomo dai suoi residenti. Sui albergo, di fatti, si ha aumentato il prezzo di su 20% in pruso, e costo le scaglionano i problemi. Sa sprenotazioni in Capidane e in Santugavine, quando i suoi prezzi sono più bassi, però sono in aumento, e i suoi ospiti hanno a essere sempre deprusi da nazionalità estera. Che accade in stio, puntuali, in suoi nubi non mancano i problemi a legare a Sabba, e a sasconduta al fognare e al gestire da Eabba Noa. In soscomune del disinterno, vai comenta in sordemare in questo periodo pre-nord dei turistas. Dessa mancanza di Abba di notte, a sorgostas a sascondutas a sultimo vato, capitano mescamente in Siniscola, in Santa Lucchia, e in soscomune a Furrio, uve da i suoi rubinettosi stessinde da una paiedese abbi in colore ludru, ma sabbisu che sabba non è spottabile starle bau pezzi in sas ultimas horas. Una situazione difficile, chi non si può debba aiulare, a suo punto chiesto intervenio su prefetto di Nugoro, Gian Carlo Dionisi, prova che scraresa, disponendo e costumanzare in prefettura una mesa che in sossindicolo dei suoi territori e sa dirigenza di Abba Noa e de Egas, sente di governo del ambito della Sardigna. Sì, va verda di sanità in sasettia nuova di un cussizzo regionale impinato in questa discussione di un collegato a questa manovra finanziaria. A posto di una derrota di Marti, scandosa maggioranza e standarda sutta che in semendamento presentava l'opposizione, che in svincolo a sovravico di un stadio nuovo di un castello di un esatto di operazione pubblica esposta senza accordo del programma mentre regione e comune colavo ai scrutini segretti che in 28 votosi in favore e due scontrarie sui centri destra sardo a pretta o vincere dai rome schercando e dettornare con patto passando i vincere sa selezioni regionali. Sua posizione però non era desumata e si parre e considera a cussu che sa maggioranza ha definito un incidente del percurso sa mostra che sa legislatura non vale pruso. Da i su 21 di agosto la polizia locale è di nuovo rata a cominciare con il suo controllo della velocità e il suo cammino del centro abitato. Il suo obiettivo è di minimare i suoi incidenti e si considera che i suoi primi sette mesi del 2023 che ha capitato un vattore grave che è infertore e morto. In questo caso la polizia locale ha fatto un autovelo che ha provato una pattuglia fatta in Arbura da Repubblica. e tendo dai su 21 di agosto il suo cammino il suo capitano per il incidente lo hanno a monitorare conforme a un calendario che hanno a pubblicare il suo sito internet del suo comune di Nugoro. Velocità è troppo alta, guida, distratti, impreo del suo cellulare, precedenza non rispettata, droga, alcol, custa, sarrezone principale del suo incidente e schierate che non atto delle responsabilità da chi è guidata. la città è stata dettata e sta maniando e prosa a Varadda dei suoi scandelerisi. Cad'anno, su batordi chi di agosto, la comunità di Tartarese è presente e concorda e prosa questa manna, riconnota patrimonio culturale e materiale delle umanità dell'esunesco. In sedizione del 2023 a pustire di chi mi chiede su un rito religioso quando si sorve il suo voto a nostra senora torrandi di grassi a sproare libera la città dell'esa festa non si sta fa che l'inintro dell'esa crisi dell'esanta Maria ma è fuori caso un fa che il traballo del restauro dell'intro. Sa comunità dell'esorgremio sa diretti per avronti a questa situazione particolare accattando questa maniera delle vacche sarà addensamente un'altra maniera possibile.